l'amore ha molte facce e se ami devi essere abbastanza forte da saperle considerare tutte io credo che l'essenza della filia sia molto più dura molto più crudele di quanto ci piaccia ammettere c'è una cosa senza la quale la filia non può esistere e non è questione di sensazioni ma di volontà filia l'amore adeguato al tuo branco è la volontà di fare qualcosa per coloro che fanno parte del branco anche se non vuoi farlo anche se ti fa orrore di disgusta e anche se alla fine potresti pagare un prezzo molto alto forse più alto di quanto tu possa sopportare lo fai perché ciò che è meglio per il branco lo fai perché devi può darsi che tu non sia mai costretto a farlo ma devi essere sempre pronto a farlo l'amore a volte disgustoso l'amore può dannarti per l'eternità l'amore può portarti all'inferno ma se sei fortunato se sei molto fortunato ti riporterà indietro ho iniziato con un pezzo un po lungo rispetto ai nostri standard i library e l'inquadratura non lo fa vedere ma ho la pelle d'oca si 100 kg di uomo maccione barbuto con la pelle d'oca dei libri che abbiamo letto fino adesso questo il luco e il filosofo di mark rowlands è sicuramente il più toccante magari non il più profondo non il più bello abbastanza leggero ma è il più toccante io l'ho trovato infatti abbiamo dovuto litigare su chi facesse il library è incredibile di per sé semplice è questo filosofo che racconta gli undici anni della sua vita che ha passato con questo lupo 96 per cento lupo brenin ci racconta da quando lo acquista a quando muore in modo molto discorsivo è un amico che racconta la sua vita in quegli undici anni con anche episodi abbastanza leggeri abbastanza divertenti lui un personaggio particolare giocatore di rugby un po troppo dedito all'alcol quindi non un professore in questo modo discorsivo lui racconta la sua vita partendo da determinati episodi tira fuori delle riflessioni anche profondamente filosofiche quindi riesce a far passare dei concetti che altrimenti sarebbero da noia mortale con estrema facilità sarebbe da raccontare tutto perché appunto ogni capitolo racconta una fase più o meno della sua vita e ne ne estrae una riflessione le due principali sono che mi sento per forza di citare sono quando confronta le scimmie capitolo affascinantissimo in cui spiega come le dinamiche all'interno dei gruppi di scimmie siano simili a fondamentalmente alla nostra politica cioè siamo noi che siamo delle scimmie e come invece sia diversa la mentalità dei lupi lo fa in modo un po' paraculo diciamolo in tutto il libro continua a confrontare la scimmia intesa come la parte bugiarda che architetta piani che cerca di sfruttare gli altri che cerca sempre un vantaggio anche in senso buono e fa riflettere in modo anche amaro ci si rende conto di quanto sia vero di quanto noi ci comportiamo come scimmie faccio questa cosa così mi aspetto quest'altra anche con le migliori intenzioni di questo mondo e lo confronto appunto in modo un po' paraculo forse con il modo di vivere del lupo mangiare il correre saltare capace di sentimenti sì ma diretti immediati e infatti fa un'altra riflessione anche quella tremenda secondo me su come l'uomo sia un animale temporale che guarda il passato magari rimpiangendolo che progetta il futuro che senza uno scopo non riesce a muoversi e che così perde il momento lui stesso dice non vogliamo tornare a fare il solito discorso di carpe diem che tanto se ne se ne riempiono tutti la bocca poi non lo fa nessuno ma fa un esempio banale in un anno che ha vissuto in francia in cui tutti i giorni andava al mare con brenini il lupo e i due cani che aveva acquistato poi nel corso del tempo e tutti i giorni andava poi alla boulangerie dove mangiava dove smezzava un pane pano cioccolato con i cani e loro tutti i giorni per un anno erano entusiasti del momento in cui mangiavano il pane al cioccolato un uomo non l'avrebbe mai accettato la settima volta avrebbe detto ancora un panino al cioccolato noi siamo alla continua ricerca un altro pezzo che mi sarebbe piaciuto leggere l'ho postato sul mio profilo lo posterò sulla pagina biosofia siamo alla continua ricerca di sensazioni dobbiamo a tutti i costi fare qualcosa di nuovo dobbiamo andare in un altro posto andare fare sesso con un'altra persona invece di limitarsi ad andare fino al lago che giustamente il regista gira la telecamera facendo vedere dove siamo a godersi un pezzo di montagna a godersi un po di compagnia con una persona che ci vuole bene o a mangiare un pasto e basta è incredibile va letto perché porta riflessioni al di là della filosofia della filosofia a riflessioni sulla propria vita su quanto davvero forse buttiamo via il nostro tempo inseguendo sensazioni che non hanno alcun motivo di essere veramente credo che si noti rispetto agli altri library infatti scherzando l'ho detto a natan questo libro veramente diverso da tutti gli altri va letto va assorbito poi ne fate quello che volete però può cambiare il modo in cui concepite la vita io ne parlo direttamente la parte che ho detto prima sull'amore cioè il branco si sceglie quel gruppo di persone con cui vale la pena condividere la vita e poi si vive in funzione del vivere appieno ogni momento lo scopo c'è siamo umani lui dice siamo inevitabilmente comunque scimmie però vi subito in un modo diverso cercando di vivere nel presente concludo fa una metafora meravigliosa dice che per noi i momenti sono trasparenti per il lupo no il lupo vive il momento adesso perché lo vede non vede cosa c'è là noi per noi i momenti sono trasparenti vediamo attraverso e finisce che non stiamo vedendo il momento vediamo quello che ci sarà là e quindi ti perdi tutto lo stai vivendo ma lo perdi veramente cercatelo acquistatelo leggetelo degli altri non l'ho detto così fidatevi se poi vi fa schifo potete venire a insultarmi e dire che non ne valeva la pena il lupo e il filosofo mark roland non so come siano gli altri libri li cercheremo vedremo se gli altri sono questo a questo livello io volevo fare il lo psicologo e il maiale o il filosofo e il maiale usando nata che abbiamo la maialina vanda però non penso che sarebbe rimasto stato ugualmente affascinante ci vediamo per il prossimo video per il prossimo library la nuova attrezzatura ci sta permettendo di fare un sacco di cose belle seguiteci sul canale condividete se avete voglia e e alla prossima